salve a tutti io sono paolo quadrino oggi ho il piacere di avere come ospite il professor sergio cicatelli che saluto ciao sergio paolo professor cicatelli già dirigente ma insegna pedagogia didattica e legislazione scolastica e con lui vedremo insieme relativamente al percorso della testata orizzonte scuola sul tema dell'educazione civica patrocinato anche dal ministero dell'istruzione e svolto in collaborazione con win scuola e anche pubblicato un testo per studenti di ogni grado scolastico vedremo insieme un argomento molto importante all'interno dell'educazione civica che come vedete è appunto la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo se ne fa spesso riferimento riguardo a tanti argomenti proposti nell'educazione civica e in particolare in quelli elencati anche nella stessa legge 92 del 2019 che istituisce nuovamente l'insegnamento dell'educazione civica e anche perché è un tema sicuramente trasversale come vedremo con il professor cicatelli che riguarda più materie giusto interessare materie come storia geografia diritto italiano religione filosofia insomma ce n'è ce n'è per molte e molte discipline e questa in questo sintetico ma crediamo necessario aspetto da da vedere insieme ci aiuteremo con alcune slide materiali ehm realizzate appunto dal professor cicatelli insieme alle immagini eh di supporto eh di eh Mario rotta eh Sergio io lascio a te la parola ti ringrazio intanto della disponibilità e di tutti gli eh spunti che eh ci vorrei dare eh su eh la dichiarazione dei diritti dell'uomo. Bene grazie benvenuti tutti a questa lezione sulla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Vediamo di esaminare il contenuto di questo documento estremamente importante eh approvato dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre del 1948. Questo documento eh ha degli illustri precedenti. Si possono ricordare fra questi andando molto indietro nel tempo la dichiarazione dei diritti del Parlamento inglese siamo nel 1689 la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America del 1776 la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino fatta durante la rivoluzione francese nel 1789. Quindi diciamo che eh questa dichiarazione del 1948 ha degli antenati illustri. Eh si inserisce nel nel solco di queste dichiarazioni precedenti in cui eh anche in altri periodi, in altri contesti storici e geografici si è cercato di individuare quali sono i i diritti fondamentali della persona. nel nostro caso dobbiamo tenere presente il contesto storico in cui si colloca questa dichiarazione. Siamo alla fine della seconda guerra mondiale, alla fine di un conflitto che ha eh veramente sconvolto l'intero pianeta durante il quale ci si è dovuti confrontare con delle violazioni dei diritti umani. Pensiamo soltanto alla Shoah, pensiamo ai crimini contro l'umanità, pensiamo ai processi che vennero fatti successivamente ai criminali nazisti proprio in nome della violazione di questi diritti. La stessa ONU in fondo nasce eh alla fine della seconda guerra mondiale da questa esigenza di ritrovarsi insieme su un terreno comune per costruire insieme una pace duratura. Quindi eh siamo in un contesto sicuramente importante, sicuramente relativo alla realtà nella quale ancora oggi ci troviamo a vivere. Una prima domanda che ci possiamo porre è che cosa sono questi diritti di cui parla la dichiarazione. Eh stiamo parlando di diritti dell'uomo o di diritti umani, cioè di diritti che appartengono a ciascuno di noi per il solo fatto che esistiamo, per il solo fatto che siamo nati. Quindi si fondano su due principi preliminari, l'idea di uomo o di persona e l'idea, il principio di uguaglianza. Siamo tutti uguali e quindi tutti quanti siamo titolari degli stessi diritti. Questi sono i due punti di riferimento fondamentali. Facciamo riferimento appunto a una idea di uomo che si identifica in questi principi e in questi valori. Anche l'espressione linguistica può essere importante. Eh noi parliamo indifferentemente di diritti umani o di diritti dell'uomo. Quale di queste due versioni è più corretta e preferibile? Personalmente preferisco parlare di diritti dell'uomo, soprattutto perché c'è una antica tradizione storica che ho citato poco fa, che parla diciamo univocamente sempre di diritti dell'uomo. Oggi si tende piuttosto a parlare di diritti umani, anche perché qualcuno potrebbe obiettare, ma i diritti della donna dove sono? E allora i diritti umani sono dei diritti più generali, più astratti, però appunto rimangono più astratti, rimangono meno concreti. Parlare di diritti dell'uomo significa ancorare questi diritti in una realtà concreta, in un essere umano vivente che ciascuno di noi rappresenta. Quindi questa è una è una espressione che forse è più adeguata, ma si tratta di gusti personali. Tra gli autori che possiamo ricordare in questo contesto c'è sicuramente Norberto Bobbio, forse il maggiore filosofo della politica del nostro secondo novecento. C'è un suo libro che è diventato già un classico, un libro del 1990, L'età dei diritti, in cui lui scrive il problema di fondo relativo ai diritti umani è oggi non tanto quello di giustificarli, quanto quello di proteggerli. È un problema non filosofico ma politico. Mi sembra condivisibile questa affermazione di Bobbio perché appunto è intuitivo quanto siano fondamentali questi diritti umani, perché ciascuno di noi li vive innanzitutto su se stesso. Piuttosto il problema è quello di difenderli, di affermarli, di riuscire a realizzarli ovunque. In Italia ci troviamo nella condizione privilegiata, diciamo, di vedere realizzati gran parte di questi diritti. In altri paesi viceversa la situazione è molto meno favorevole. Quindi il problema, come dice Bobbio, non è tanto un problema filosofico quanto un problema politico. Generalmente noi parliamo di diritti e associamo immediatamente l'idea di doveri. Questi due concetti vanno di solito insieme. Soprattutto nei sistemi giuridici, parlo di sistemi giuridici positivi, non di diritto naturale, l'esercizio di un diritto è generalmente collegato all'adempimento di un dovere. Noi siamo titolari di diritti perché rispettiamo i nostri doveri. Ciascuno di noi all'interno del sistema sociale nel quale viviamo è titolare di diritti e di doveri contemporaneamente. Nel caso dei diritti dell'uomo però ci troviamo di fronte a diritti talmente originari che sono slegati dalla reciprocità dei doveri. Perché prima ancora di essere collocati in un contesto sociale, in un contesto di relazioni, in un sistema giuridico, noi siamo già titolari di questi diritti. Tuttavia siamo inseriti comunque di fatto in un sistema di relazioni che deve consentirci l'esercizio di questi diritti. In altre parole, se io ho un diritto, faccio per esempio il diritto all'istruzione, ci deve essere qualcuno che mi garantisca la possibilità di accedere a questo diritto. Quindi c'è il dovere da parte di qualcuno, lo Stato, l'organizzazione sociale, di assicurarmi l'accesso a questi diritti, l'esercizio di questi diritti. A proposito di diritti e doveri, se vogliamo fare un'altra citazione, possiamo pensare a Simone Weil, questa inquieta pensatrice della prima metà del novecento, nel suo libro sulla prima radice, che voleva essere, come dice il sottotitolo, il preludio a una dichiarazione dei doveri verso l'essere umano, siamo nel pieno della seconda guerra mondiale nel 1943, diceva Simone Weil, un uomo considerato per se stesso a solo dei doveri, fra i quali i doveri verso se stesso. Ecco, qui siamo piuttosto sul piano etico, siamo titolari di diritti, ma siamo anche titolari di doveri e dobbiamo preoccuparci di esercitare anche questi doveri se vogliamo essere dei soggetti etici. Tra i diritti umani possiamo distinguere poi diverse tipologie. Esistono diritti civili e politici che derivano dal modo in cui sono organizzate le nostre relazioni umane. Faccio un esempio, il diritto di voto. Abbiamo un diritto di voto perché siamo organizzati in una società, in uno Stato democratico. In altri contesti il diritto di voto non esiste. Il diritto di voto è negato. Se io mi trovassi a vivere su un'isola deserta, ovviamente non avrei il problema dell'esercizio del diritto di voto, quindi discende dall'organizzazione civile nella quale sono inserito. I diritti economici, sociali e culturali sono un'altra categoria che discende dalle condizioni naturali di vita. Cioè io mi trovo a vivere in una certa situazione, faccio di nuovo l'esempio del diritto all'istruzione. Ho diritto all'istruzione perché mi trovo in un contesto sociale in cui l'istruzione è un valore da difendere. Se fossi il Robinson Crusoe dell'esempio precedente non avrei bisogno di un diritto all'istruzione perché non avrei nessuno con cui confrontarmi. questa distinzione si è concretizzata nel 1966 quando l'ONU ha approvato due distinti patti che sono stati poi sottoscritti dai paesi del mondo, il patto internazionale sui diritti civili e politici e il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Dico questo perché appunto, mi ci soffermerò tra poco, non esiste solo la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ma c'è una grande quantità di documenti internazionali che si soffermano su questi diritti originari. L'elenco dei diritti umani tende oggi anche ad allungarsi rispetto all'elenco che viene fissato nel 1948 stanno emergendo nuove sensibilità, nuove esigenze e quindi vengono fuori talvolta dei nuovi diritti o perlomeno sedicenti nuovi diritti perché dobbiamo distinguere tra quello che è effettivamente un diritto che appartiene alla persona umana in quanto persona e il desiderio, l'aspirazione. Si vorrebbe riuscire a generalizzare una certa situazione ma questa situazione non è effettivamente universalizzabile. Fra l'altro con le trasformazioni che stiamo vivendo a livello culturale emergono anche nuovi diritti, per certi aspetti possiamo dire anche provocatori, in quanto estesi a soggetti diversi dall'uomo e quindi è un po' difficile parlare di diritti umani per chi uomo non è, per esempio i diritti degli animali, per esempio i diritti della natura che non deve essere violata, che non deve essere offesa, che deve essere rispettata. Ecco, tuttavia si tratta di diritti che discendono sempre da una prima matrice fondamentalmente umana. prima di entrare nel merito della dichiarazione del 48 vediamo alcune questioni preliminari. Primo problema, ma questa dichiarazione è vincolante oppure no? Cioè uno Stato, una società che non rispetti i diritti umani può essere denunciata e a chi? Ecco, all'inizio quando questa dichiarazione è stata elaborata nel 1948 è stata concepita come non giuridicamente vincolante e d'altra parte la maggior parte dei documenti di questo genere non è considerata vincolante. Andando avanti nel tempo, man mano che si è consolidata una condivisione a livello internazionale dei contenuti di queste dichiarazioni sono diventate esse stesse un testo di riferimento per le politiche mondiali. Però stiamo parlando più di riferimento per la politica che di riferimento per il diritto. Non c'è una corte di giustizia, o meglio ci sono, ma sono a livello generale, a livello estremamente elevato, difficilmente accessibili al singolo cittadino. Un altro problema fondamentale è la lingua in cui sono redatti questi documenti. Generalmente oggi sono redatti in inglese e questo pone dei problemi di traduzione per l'italiano come per qualsiasi altra lingua e molto spesso nel passaggio dall'inglese all'italiano, mi limito ovviamente a considerare solo il caso dell'italiano, la traduzione può non rendere perfettamente il significato originale. Significato originale che fra l'altro è già stato concepito in traduzione perché dobbiamo pensare che il testo cosiddetto originale è a sua volta una traduzione perché si tratta di testi scritti da persone che provengono da culture e da lingue diverse e che si incontrano sul terreno di una lingua comune quale può essere eventualmente l'inglese. Ricordiamo che a livello internazionale nell'ONU non è solo l'inglese la lingua ufficiale ma anche il francese, lo spagnolo, il cinese mi pare, quindi ci sono vari testi ufficiali. Fermo restando che poi questi documenti sono tradotti praticamente in tutte le lingue o nella maggior parte delle lingue, ma rimane sempre il problema della traduzione che è un modo per tradire il significato originale, un tradimento inevitabile. A proposito di differenze linguistiche è inevitabile anche parlare delle differenze culturali che possono caratterizzare questo genere di documenti. La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è stata accusata talvolta di essere essenzialmente una dichiarazione eurocentrica o comunque una dichiarazione che fa riferimento prevalentemente al mondo occidentale. Ecco, quando noi parliamo di diritti dell'uomo in realtà non dovremmo essere condizionati culturalmente o geograficamente. In realtà però il nostro modo di parlare dei diritti umani è inevitabilmente condizionato dalla cultura in cui ci troviamo. I diritti dell'uomo per la loro universalità dovrebbero essere superiori a ogni differenza ma noi, noi persone, ciascuno di noi, io e chiunque altro, mentre parla di diritti dell'uomo ne parla a partire da un punto di vista culturalmente determinato. Può essere interessante notare come si siano succeduti nel corso degli anni alcuni documenti di carattere regionale, regionale nel senso di regioni mondiali ovviamente, parliamo di continenti o di aree geografiche molto ampie. Poco prima della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo noi abbiamo sempre nel 1948 la dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell'uomo che risponde già nel titolo a una sensibilità un pochino diversa. Nel 1981 esce la carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli. Andare a leggere questi documenti è interessante perché si vede come i diritti dell'uomo sono percepiti un po' in maniera diversa con una sensibilità differente. Per esempio nel 1990 viene approvata la dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell'islam che rappresenta una fetta cospicua della popolazione mondiale e pochi anni dopo nel 1994 esce la carta araba dei diritti dell'uomo. Anche qui diciamo un modo diverso di accostarsi ai diritti dell'uomo. Nel 98 infine esce la carta dei diritti umani dell'Asia che porta anche un sottotitolo particolare la nostra umanità comune. Io vorrei invitare a leggere questi documenti proprio per capire come ci siano degli approcci culturalmente diversi tra un'area geografica, una cultura particolare e l'altra nel parlare di qualcosa che in teoria dovrebbe essere universale, cioè uguale per tutti. Se andiamo a ricostruire diciamo così le origini della dichiarazione come si è arrivati alla stesura di questo testo, teniamo presente che questa dichiarazione, la dichiarazione universale del 48 fu redatta dalla commissione dei diritti umani che era stata costituita all'interno dell'ONU ed era composta da rappresentanti di otto stati geograficamente rappresentativi di tutti i continenti, di tutte le aree culturali. Questa commissione era preseduta da Eleanor Roosevelt, la vedova dell'ex presidente americano Franklin Delano Roosevelt, la vedete nella foto, proprio osservare il manifesto con il testo originario della dichiarazione. Eleanor Roosevelt era particolarmente attiva nel settore dei diritti umani, come del resto molte mogli di presidenti americani di solito si distinguono per il loro impegno sociale. I lavori di questa commissione iniziarono nel 1947 e si conclusero con una prima versione della dichiarazione nel settembre del 48. Il testo definitivo poi fu approvato il 10 dicembre, come dicevamo all'inizio, con 48 voti favorevoli su 58. I 10 non favorevoli erano 8 astenuti e 2 assenti. Diciamo che ci fu un consenso larghissimo, anche se stiamo parlando solo di 58 stati presenti nell'assemblea rispetto ai 190 attuali. Si giunse all'accordo di non avere voti contrari per cui chi non era d'accordo o si astenne o si assentò al momento della votazione. Il testo finale si compone di un preambolo molto ampio e di 30 articoli. Tutto sommato è un testo abbastanza breve, come del resto ci si deve aspettare da un documento che enuncia dei principi assolutamente generali. Le cose importanti sono in genere poche. Se vogliamo andare a consultare il testo, le fonti per conoscere questa dichiarazione, il testo in inglese lo possiamo reperire al link che vedete, sono tutti quanti siti web istituzionali e la traduzione italiana è nello stesso sito con un link diverso. Può essere interessante anche la versione che l'ONU ha curato in forma illustrata. È una versione per ragazzi, comunque molto vivace, molto simpatica in inglese. Per l'italiano desidero segnalare poi un documento molto ricco, molto importante, un repertorio di tutti quanti o perlomeno quasi tutti i documenti relativi ai diritti dell'uomo, che è stata curata questa raccolta dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica Italiana. Il titolo è Manuale dei diritti umani, sono due volumi in pdf per quasi 1400 pagine, quindi una raccolta decisamente ampia è aggiornata purtroppo solo fino al 2004, comunque può essere liberamente scaricata dal link che vedete. Detto questo possiamo quindi passare alla lettura del testo. Come dicevo prima, il testo della dichiarazione si apre con un ricco preambolo. Io non intendo leggerlo tutto, mi limito semplicemente ad alcune frasi. La dichiarazione comincia con questa affermazione, considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali ed inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Ecco, queste sono tutte quante frasi che confluiscono verso la dichiarazione. La cosa interessante è che all'inizio si parte da una considerazione, il riconoscimento della dignità di ogni uomo che costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace. Ricordiamoci sempre era da poco finita la seconda guerra mondiale. Si erano scoperti i crimini nazisti, si era scoperta l'atrocità della guerra, una guerra che per la prima volta era effettivamente era stata una guerra totale che aveva coinvolto anche le popolazioni civili. Quindi era stato un trauma, è stato un trauma importante per tutta l'umanità. Quindi l'obiettivo è garantire la libertà, la giustizia e la pace nel mondo. Seconda considerazione, considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo, eccetera, eccetera. Ecco anche qui al secondo posto il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo, gli atti di barbarie che hanno offeso la coscienza dell'umanità. Possiamo pensare effettivamente al dramma della Shoah che possiamo leggere fra le righe anche nel desiderio che arrivi un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo. Ecco, poter dire ciò che si pensa e poter praticare la religione che si vuole senza nessuna persecuzione di carattere razziale, religiosa, etnica, eccetera. Non leggo ulteriormente il preambolo e passo all'articolo 1. Articolo 1 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Vedete, tutto sommato in questa frase così breve troviamo enunciati i principi che riconosciamo facilmente risalire alla rivoluzione francese, libertà, uguaglianza e fraternità. Tutti noi nasciamo liberi e uguali, la libertà e l'uguaglianza sono una condizione originaria. La fratellanza, la fraternità è viceversa un dovere morale che va a completare la libertà che potrebbe essere esagerata se assoluta e se non tenesse conto delle libertà degli altri e viceversa la fratellanza riesce a temperare quella libertà in nome dell'uguaglianza. Siamo tutti liberi perché siamo tutti fratelli e quindi dobbiamo in qualche misura cooperare fra di noi. Perché? Perché siamo esseri umani dotati di ragione e di coscienza. Il secondo articolo, l'articolo 2, ci dice che ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente dichiarazione. Bisognerebbe leggerli tutti questi articoli ma io ne ho previsto soltanto una selezione per ragioni di tempo, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Di solito questi elenchi così lunghi rischiano sempre di dimenticare qualcosa. Basterebbe dire a ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà senza nessuna distinzione. Punto. Però questo elenco serve anche per capire che ci sono, ci possono essere e sicuramente ci sono state delle distinzioni, delle discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione eccetera eccetera. La cosa interessante è anche l'aggiunta più di carattere politico o sociale, nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità. Vedete qui si parla, nel 1948 erano ancora numerose le colonie, paesi sottoposti a amministrazione fiduciaria, non indipendenti. Oggi questa espressione ci risulta abbastanza estranea perché territori coloniali ne sono rimasti veramente pochi e sicuramente o almeno ci si augura meno sfruttati di quanto potesse accadere in passato. Articolo 3 è diciamo incisivo nella sua brevità, ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. È importante anche l'ordine in cui sono enunciati questi articoli. Il primo e il secondo sono degli articoli programmatici, con il terzo entriamo in un territorio già contenutistico, il primo diritto è il diritto alla vita, anche perché se non c'è la vita non c'è neanche qualunque possibilità di essere titolari di diritti e di doveri. Diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza. L'articolo 4 è in un certo senso una conseguenza. Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù. La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. Può stupire il fatto che sia detto al futuro, vuol dire che non erano proibite almeno nel 48. Tutto sommato sotto delle vesti diverse da quelle cui siamo abituati a immaginare la figura dello schiavo, ancora oggi ci possono essere delle condizioni di schiavitù. Quindi questo giustifica il fatto che se ne parli al plurale. Articolo 5. Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o punizione crudeli inumani o degradanti. La tortura è chiaramente un esercizio di violenza contrario alla dignità dell'uomo e quindi viene presentata subito tra i primi articoli. Saltiamo alcuni articoli e passiamo all'articolo 13 che ci parla della libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Argomento che oggi può essere di estrema attualità anche perché al comma 2 questo articolo ci dice che ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. In un mondo che nel 1948 cominciava a percepire forse le prospettive della globalizzazione che oggi sono infinitamente maggiori rispetto a 70 anni fa, già si enunciava appunto il diritto di potersi muovere a livello mondiale, lasciare il proprio paese e poterci ritornare in qualunque momento. Ovviamente questo presuppone che le condizioni politiche e civili di ciascun paese consentano il libero accesso, il libero movimento di tutti, la libertà personale. Infatti l'articolo 14 già ci dice come questa libertà non sia garantita ovunque, perché ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. Quindi vuol dire che non tutti possono vivere in pace nel proprio paese. Esiste proprio per questo il diritto di asilo. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici, operazioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. Ovviamente il diritto di asilo è asilo politico, non asilo giudiziario. Se io sono ricercato dalla polizia, la polizia ha tutto il diritto di cercarmi per punirmi per reati di carattere penale. Diverso è il discorso per presunti reati di carattere politico che in realtà non dovrebbero essere nemmeno reati. Saltando all'articolo 16, uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno uguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. Attenzione, ecco, notate la condizione avanzata di questa affermazione, perché c'è il diritto di sposarsi, di fondare una famiglia senza vincoli di nessun genere e uomini e donne hanno uguali diritti all'interno del matrimonio. Teniamo presente che già in Italia la probabilità dei diritti tra uomini e donne nel diritto di famiglia è arrivata parecchi anni dopo. Comma 2, il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. Qui stiamo parlando appunto di matrimonio che già era contenuto nel comma 1, la possibilità che questo matrimonio potesse anche essere sciolto, comunque sempre con il consenso dei coniugi. La famiglia, abbiamo parlato del matrimonio ma nel comma 3 poi viene fuori la famiglia, nucleo centrale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. Ecco, il fondamento, la famiglia come fondamento del nostro vivere sociale veniva riconosciuta nel 48 come realtà originaria in un certo senso, come diritto fondamentale in paesi che viceversa pensavano di poter sostituire lo Stato alla famiglia, per esempio sul piano educativo. Articolo 17 riguarda il diritto di proprietà. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri e nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà. La proprietà è un diritto umano o è un diritto civile? Qua è un discorso complesso ma teniamo presente che appunto all'interno di questi diritti umani naturali ci sono diritti che sono culturalmente definiti come quello della proprietà, ma la proprietà è sicuramente un diritto perché ciascuno di noi ha il possesso di alcune cose personali che poi lo rendono anche autonomo, libero, quindi la proprietà in questo senso diventa un diritto originario. Articolo 18 ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare isolatamente o in comune e sia in pubblico che in privato la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti. Ecco qui si abbina la libertà religiosa con la libertà di pensiero perché in fondo la libertà di religione è la più profonda libertà di pensiero perché riguarda i valori più generali, i valori più profondi nei quali ciascuna persona crede. Questa libertà ovviamente deve essere totale, deve essere libertà di pensiero, possiamo dire che la libertà di pensiero può anche essere inutile enunciarla perché è difficile controllare il pensiero di una persona. È possibile viceversa controllare la sua espressione, quindi dalla libertà di pensiero discende la libertà di esprimersi e sul piano religioso, la libertà di culto, la libertà di manifestare la propria fede attraverso un rito sia pubblico che privato. Articolo 23, il diritto al lavoro. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione. Vedete qua, è chiaro che è una dichiarazione dei diritti, quindi il lavoro viene presentato come un diritto. Ci possiamo porre la domanda se il lavoro sia solo un diritto, sia anche e soprattutto un dovere. Nella Costituzione italiana il lavoro viene definito, la Costituzione italiana è coetanea della dichiarazione universale, è arrivata appena un anno prima, nella nostra Costituzione il lavoro viene definito tanto un diritto quanto un dovere. Ogni individuo senza discriminazione ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. Sempre in nome dell'uguaglianza che sta al di sotto di tutta questa costruzione, non ci possono essere discriminazioni ma la retribuzione deve essere identica per l'eguale lavoro. Pensiamo alle discussioni attuali, per esempio, sulle retribuzioni inferiori per le donne rispetto alle retribuzioni degli uomini. Terzo comma, ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana e integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. Dal lavoro io devo ricavare ciò che consente a me e alla mia famiglia, la famiglia l'abbiamo vista qualche articolo fa, di vivere dignitosamente e quindi dobbiamo pensare che ci possano essere anche dei mezzi di protezione sociale. Ogni individuo, in relazione al lavoro, ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. Anche la costituzione, la partecipazione ai sindacati è un dato ovviamente che discende direttamente dal diritto al lavoro. Articolo 24, dopo il lavoro vengono le ferie. Ogni individuo ha diritto al riposo e allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite. Anche questo è un diritto, perché altrimenti il lavoro diventa semplicemente un obbligo, una costruzione, una forma di sfruttamento. Il lavoro deve essere umano, non disumano. E arriviamo all'articolo 26, vedete che riguarda il diritto all'istruzione. Viene prima lo svago e poi la scuola, per certi aspetti. E questo è un articolo fondamentale ovviamente per chiunque lavori nella scuola. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. Nel 1948 questa era un'affermazione che ancora non trovava riscontro dappertutto nel mondo. La gratuità e l'obbligatorietà dell'istruzione elementare. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti, non è obbligatoria. E l'istruzione superiore, ricordiamoci che quando parliamo di istruzione superiore nei documenti internazionali facciamo riferimento all'università, all'istruzione post-scolastica, deve essere ugualmente accessibile a tutti sulla base del merito. Tutti devono poter andare a scuola, tutti devono poter accedere all'università, ai livelli superiori dell'istruzione, sulla base del merito, sulla base delle loro capacità. Anche perché l'istruzione ha una utilità di carattere sociale. Tutti noi in fondo rendiamo un servizio alla società nello studiare, nell'uscire dalla condizione di analfabeti. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Vedete qua è importante anche la definizione della finalità dell'istruzione. Quando parliamo di istruzione stiamo parlando di scuola. Teniamo presente a proposito del problema della traduzione, che qui noi traduciamo istruzione ma l'inglese in originale è education, che potremmo tradurre anche con educazione, però l'education inglese è piuttosto l'istruzione che viene impartita dentro le scuole. A che serve la scuola? Ecco, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ci dice al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa, l'istruzione dunque la scuola, deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le nazioni, i gruppi razziali e religiosi e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. La finalità dell'istruzione è anche il mantenimento della pace. Noi oggi forse non ci facciamo molto caso, perché veniamo da 70 anni di pace, quindi la consideriamo un dato acquisito. Nel 1948 la scuola serviva a promuovere la pace, a non far ripetere l'esperienza drammatica della guerra. Terzo comma, importantissimo, i genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli. Cioè l'educazione, l'istruzione, è essenzialmente un diritto della famiglia. I bambini sono minorenni, non possono scegliere loro il tipo di istruzione da ricevere. È responsabilità dei genitori dare loro l'istruzione e i genitori devono poter scegliere il tipo di istruzione da dare ai propri figli. Scegliere fra scuole diverse, scegliere fra tipologie di scuole diverse, scegliere fra orientamenti diversi della stessa scuola. Sono sempre minorenni anche i bambini, i ragazzi, che alla fine della scuola dell'obbligo devono scegliere di proseguire i loro studi. E anche lì la famiglia, i genitori hanno diritto di priorità, così come hanno diritto di priorità nel decidere il tipo di scuola, scuola statale, scuola non statale, scuola religiosa, scuola laica, devono essere garantiti in questa loro libertà fondamentale. Ultimo articolo che volevo prendere in considerazione è l'articolo 29, nel quale, tornando al discorso che facevamo all'inizio, vediamo che c'è la ripresa del tema della reciprocità tra diritti e doveri. Ogni individuo ha anche dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. Cioè io ho dei doveri verso la comunità perché tutti quanti apparteniamo a questa comunità e, diciamo, far crescere bene questa comunità è garanzia anche per l'esercizio dei miei diritti. Comma 2, nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. Ecco, l'esercizio dei diritti non può essere sfrenato, deve essere in qualche modo regolamentato per consentire che tutti possano esercitare i propri diritti. Esistono non solo i diritti miei ma anche i diritti degli altri e bisogna rispettare le esigenze della morale, dell'ordine pubblico, del benessere generale. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite. Qui bisognerebbe andare a riprendere il testo base, diciamo, lo statuto dell'ONU per vedere quali sono i diritti principi delle Nazioni Unite, fondamentalmente la difesa della pace e il rispetto dei diritti umani che questa dichiarazione universale ha riassunto in maniera sintetica e sistematica. Con questo penso di aver concluso il discorso e possiamo quindi lasciare a ciascuno di voi il compito di andare a rileggere e meditare il testo della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Grazie a tutti. Sì, Sergio, grazie a te per questo rapido, sintetico, ma essenziale direi, escursus sulla dichiarazione dei diritti dell'uomo perché nell'ambito del percorso di educazione civica era veramente fondamentale affrontare questi argomenti, anche se certamente in maniera rapida, sintetica, però insomma era, ritenevamo fosse un punto, forse anche di partenza, no? Perché poi questa dichiarazione appunto fa parte dei cittadini, dei civis, di chi vive il mondo e quindi soltanto a partire da questa dichiarazione si può poi dopo di conseguenza essere cittadini di un mondo sicuramente che rispetti la dignità e i diritti dell'uomo e delle donne. Quindi ecco, ti ringrazio perché ci hai dato l'occasione di riflettere maggiormente su questa dichiarazione che probabilmente è poco conosciuta, no? Rispetto a quello che dovrebbe essere e quindi abbiamo trovato parecchi spunti certamente di approfondimento e quindi sono io che a nome di Orizzonte Scuola ringrazio a te per la tua disponibilità e le tue indicazioni che ci hai potuto dare in questa lezione, va bene? Grazie a te, grazie a Orizzonte Scuola per l'invito. Buon lavoro e a presto. Ciao. Arrivederci. Grazie a te, grazie a te, grazie a te.